bravo, oh porca un brutto con la S, questo è un po' più difficile, lo so neanche io a che cosa mi serve? mi passi quel prosciutto a mano quindi adesso metterò via la te non sto parlando con te amore, non sto parlando con te ami, dai ami no, no, non ci stai, non ci sta no, è un cerchio, grazie no, 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 no risposta a ecco ho fatto le tue zampie metti il tuo culone da qualche altra volta fu veduta la piccina con le gotine rosse e il soliso sulle labbra ma no, è bruttissima ma è tremenda ami la smetti di russare, tata dai lo so che ti rilasso, però russi come una maialina cosa che succede a molte persone e niente, deve passare all'una e mezza il camion nella spazzatura mi stia rintregando eh no, lo dico io grazie grazie ami se ne a mente? ci provo allora tacere tacere far tacere il tuo cane grazie che bello che bello fare dire mezzogiorno appassare le luci ma hai detto cane? bbs quest'anno ti faccio conoscere anche le mie renne ecco ami? dubito? no, infatti io come faccio? questo cane eh quelli con cui mastichiamo la pappa si la pappa è un cane è una fortuna grazie ma si ma si cosa c'è? ah mio devo lavorare ma che ca... no, 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 no shhh va tutto bene amore no, 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 no no, no, no shhh tranquilla amore della mamma amore ci amico? no 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 Grazie.